Oggi mi porto con me, anzi mi portiamo con noi Stai calmo tu, GPS Un lovo hotel in mezzo al nulla, nella zona di campagna del nulla, dove tu porti l'amante e nessuno sa niente Come fanno i giapponesi, troviscono le mogli e nessuno sa niente E' un hotel a ore, questo massimo di 15 ore Si chiama, ti amo, ti amo lovo hotel Eccoci qua ragazzi, momento più alto del video del canale Guardate qua Non so se rendo l'idea, ci stanno le insegne con i cammelli ragazzi Ci sta gente qua con le amanti Tutti io e porto ai posti più assurdi in Giappone ragazzi, ma che ne volete sapere guarda Vi faccio una stanza adesso, ma ciao Che spesso Magari se ne lasciamo la cosa strana Fino al massimo di 15 ore Ci sta gente qua Ci sta gente qua Ci sta gente qua Ci sta gente qua Ci stanno pure le zoze Ci sta gente qua Ci stanno pure le zoze Ci stanno pure le zoze Ma che cosa è? La tristezza proprio Altra è quella che è quella Shinjiko, la che è andata a guardare il video di quella Shinjiko che è una f***a atomica Ok, è ok Il bagno di Lakuma, ragazzi, è la f***a atomica Chi si chiede come fai il video? Molte volte, ecco qua, la lenda è questa e il telefonino È il registro in 24K Allora, ragazzi, questo è l'hotel dove devi portare la mande Questa è la cosa f***a, qua c'è tutto quando è set Vedete, che vedete, c'è sta la maschera, c'è sta la pettina, c'è sta la roba Questa sera, posso fare pure la barba che è un po' zingaro Ma la cosa che mi piace, alla fine, in tutto quanto, la giostra È il bagno stile giapponese che la vasca, che stasera c'è mai scasso dentro Tranquillamente proprio Vi raccomando sempre, ragazzi, lavatevi fuori, c'è lo sgabello e secchiello pesce qua Vi vedete che è basso, vi lavate qua, vi insaponate qua Una volta che l'avete fatto Già rinvito l'acqua, vi rilassate dentro E ragazzi, a morte tua Diciamo che la linea di massimo e sto tipo di camere Sono ideate per un periodo breve di tempo Ma visto che noi domani ci spostiamo per fare il campeggio E siamo in una zona di mezzo Tra, eravamo tra Zao E dove andiamo a fare il campeggio Abbiamo scelto di provare la Votel Ma la Votel è anche perché il prezzo è molto più bassino del normale Visto che sta proprio in una zona molto, molto lascicosta Ragazzi, chissà ricorda Futurama Sapete Futurama, no? Le capsule, mettete le capsule, quelle viaggiano Ecco Per pagare questo Votel non si fa la reception Perché se no ti vedono un fascia Ti mandano la capsule, ragazzi Oh mio Dio Cos'è, cos'è Dallo spazio è arrivato a stacco Cos'è Oh mio Dio Credo che è il momento più alto del video questo Oh mio Dio C'è la C'è Oggetto fallico Ok Si apre Si svita, ragazzi Per chi Abbiamo speso 8000 Yen 8000 Yen Sono poco intorno ai 60 e qualcosa Euro Per 15 ore di utilizzo di questo Alla fine Sempre costato quando notte è normale Quindi Ecco Vai nello spazio Oh mio Dio Lo spazio Incredibile Pensavo di averle viste tutte in Giappone Ma dovete stare su questo canale Ve le porto tutte le cose Mia moglie è rimasta ancora scioccata dalla capsula Perché deve essere un vecchio moto Abbiamo il nuovo hotel per farsi pagare Siamo nel nulla raga Ma di giorno ci può filmare Vi vedete come siamo nelle campagne delle risaie Vi dico Consigliate il mio canale Seguiteci Queste avventure Vedi che vi porto le cose più strane nel mondo Se l'affrittatura è la macchina mia affrittata Adesso Andiamo A campeggiare A fare i barbecue ignorante Se il video è uscito prima con i barbecue rispetto a questo Andatelo a rivedere E commentate Da dove siete Da dove avete scoperto quel video Di Campagna Giapa La giornata promette bene E' bello che questo paese che vedete qua E' pieno 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 di un ser Pieno pieno di un ser Pieno di un ser Raga Commentate Condividete Lasciate un like Interagite con i video sul canale Perché aiutano anche il canale a crescere E stiamo diventando Tanti Siamo quasi 19 mila E io vi saluto qua Dal Giappone Quello strano Ci vediamo al prossimo video Ragazzi Vede bravi Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.